... in terra, in formale, una era il twist e l'altra è il tavolo. Sperando che sia la parte di dire. È limitato per il nipo, e spero che eventualmente si può trovare a tenere se possiamo andare bene. Mi faccio esplorare? Sì, sì, sì. Qualche di tipo di... Ok, grazie. Grazie.